Mi chiamo Giorgia, ho 24 anni e mi alleno regolarmente 2-3 volte a settimana. Mi hanno consigliato questo trattamento perché vorrei provare a definire maggiormente la zona delle cosce. Sono molto curiosa perché non avevo mai sentito parlare di un trattamento capace di allenarti e di rilassarti allo stesso tempo. Non so proprio che aspettarmi perché il concetto di allenarmi e di rilassarmi allo stesso tempo mi fa quasi paura. Spero solo che non mi faccia male. Grazie a tutti. Ho da pochi minuti finito il trattamento che è durato circa una ventina di minuti. All'inizio ho sentito formicolio soprattutto nella zona dei glutei, successivamente aumentando l'intensità sono riuscita a percepire la contrazione dei muscoli sia nella parte dei glutei che nelle gambe. Facendo molta attività fisica ho percepito la contrazione del muscolo, però non ho percepito il dolore che sento durante gli allenamenti. Non pensavo di ottenere dei risultati così immediati, non solo per quanto riguarda la tonicità delle zone interessate col trattamento, ma anche per come si presenta la pelle. La sento più liscia, più compatta. Sono veramente molto sorpresa. La cosa che mi ha più stupito è che solo dopo 20 minuti sento la sensazione come se mi fosse allenata per ore in palestra senza fatica. Grazie a tutti.